La partita che il Pisa doveva fare è attesa per tutta questa lunga pausa. Sì è vero, come sai che tu hai vissuto con me giorno per giorno, ho forzato per avere questa amichevole a Carrara perché temevo questa lunga inattività dovuta al riposo e alla festa pasquale. Invece i ragazzi hanno risposto al meglio, hanno fatto una grande partita contro un grande avversario e adesso magari si può dire che il Lecce non ha fatto una buona prestazione, assolutamente no. Ha fatto una grande prestazione il Pisa che ha costretto il Lecce per lunghi tratti sulla difensiva, abbiamo giocato anche con palla a terra, siamo stati aggressivi, abbiamo concesso pochissimo e questa è la squadra che voglio. Mi fa piacere il sacrificio da parte di tutti, anche qualcuno che ha giocato fuori ruolo, però ognuno ha portato il proprio contributo. Questo è essere squadra e bisogna continuare su questa strada. Una vittoria che significa matematica, certezza di giocare pre-off e quella di oggi è stato un antipasto perfetto di quello che attenderà il Pisa tra 15 giorni. Sì sì, però prima c'è da fare il Viareggio, ho detto anche a altri tuoi colleghi della stampa, dobbiamo andare a Viareggio, dobbiamo sentire il piacere di fare una bella prestazione, dobbiamo avere anche un pizzico di rivalza e di rivincita perché il Viareggio sono stati bravi a venire qui a vincere, quindi noi dobbiamo cercare di ottenere il massimo per cercare di migliorare la classifica e poi dopo a fine partita vediamo chi sarà l'avversario nostro nei play-off. Però per fare questo dobbiamo allenarci bene come stanno facendo i ragazzi, con intensità, con entusiasmo e poi andiamo a Viareggio. Abbiamo rispetto del Viareggio che conosco, conosco diversi giocatori, qualcuno l'ho anche allenato. E' una squadra che poi voi la conoscete meglio di me perché l'avete sperimentata sulla vostra pelle, quindi è inutile che vi dico che non c'è avversario che regala niente, quindi dobbiamo prepararci bene. Un'ultima cosa, un'arena come quella di oggi può essere un valore aggiunto? Sicuramente sì, ieri abbiamo ricevuto la visita della Curva, ci ha fatto enorme piacere, ci ha caricato, noi abbiamo cercato di ricambiare partendo forte, facendo un grandissimo primo tempo, ci siamo trascinati la Curva e tutto lo stadio credo con un sano e importante entusiasmo. Dobbiamo continuare così, ci fa piacere che l'arena Garibaldi sia sempre il dodicesimo uomo, quando non ci riusciamo non è perché è cattiva volontà o perché i giocatori se ne fregano o perché vanno a fare le grigliate. No, ci sono delle situazioni oggettive che a volte c'è anche l'avversario, non riusciamo a esprimerci, ma posso testimoniare che i giocatori durante la settimana lavorano bene, sono degli ottimi professionisti e che quando vanno in campo danno tutto, a volte si gioca meglio, a volte peggio, questo fa parte del calcio.